Ancora un personaggio femminile da Pagina, Bianca Tragni, Anna Ximenez, storia d'amore e di rivoluzione, Puglie 1799, Anna Ximenez sposa la rivoluzione che scoppia a Napoli, caccia i Borboni, accoglie le truppe garibaldine, poi a mano a mano il cardinale Ruffo risale e fa prigionieri questi rivoltosi e Anna Ximenez viene impiccata. Qui si ripercorrono queste vicende dei Borboni nelle Puglie, a Napoli, nell'Italia meridionale, poi cittadini, ecco qui l'inno della libertà, è arrivato fresco fresco da Napoli, lo ha scritto il grande maestro Domenico Cimarosa, I versi sono di Luigi Rossi, d'un dispotico potere, iti al fuoco, infami e detti, son dell'uomo i primi dritti, uguaglianza e libertà. Non ve servono il Signore, vinci torno o ve ne vinto, sol dall'uno all'altro è distinto per comune utilità, sol il popolo è sorano, eccetera. Domenico Cimarosa dovette alla sua fama di illustre musicista il non soffrire il patibolo come invece ha dovuto Anna Ximenez che viene impiccata quando i Borboni tornano a Napoli.